Senatore Candiani, come commenta la relazione del ministro degli esteri Emma Bonino sulla situazione in Turchia? Come ha avuto modo di dire direttamente al ministro in aula, se si leggeva il giornale si apprendevano più notizie della sua stessa relazione. In effetti è stata una relazione assolutamente insoddisfacente e questo ovviamente ci ha molto stupito, visto anche l'enfasi che poi la ministra stessa ha messo anche sui giornali nel descrivere la sua azione nei confronti della Turchia. E quello che poi abbiamo rilevato, ovviamente, e che abbiamo trovato anche confermato nelle poche scarne parole che ha detto il ministro in aula, è questa fuori luogo volontà oggi di continuare su un percorso che vorrebbe includere la Turchia in Europa. L'abbiamo detto a chi ha letto dal ministro, la Turchia non ha nulla a che fare con l'Europa, non ha nulla a che fare storicamente, non ha nulla a che fare geograficamente e tanto più, men che meno oggi, in termini politici. Quando ci troviamo di fronte a un regurgito assolutamente autoritario, che nulla a che fare con un paese occidentale, ma che invece riporta proprio a una democrazia incompiuta, che in questo caso ha nell'esercito e nel fondamentalismo musulmano le proprie origini. Che cosa chiede quindi la Lega Nord al nostro paese e all'Europa sulla situazione in Turchia? Certamente di essere chiari e di prendere atto di una realtà che non può essere ovviamente taciuta, quella che la Turchia non è un paese europeo, quello che i rapporti commerciali con la Turchia se ne possono tenere senza problemi, come se ne tengono anche con altri paesi molto lontani dall'estremo Oriente, piuttosto che con l'America stessa. Non per questo devono diventare paesi dell'Unione Europea. Partecipare all'Unione Europea da parte della Turchia significherebbe aprire i confini verso l'Iraq, anche i confini verso l'instabilità dell'area sud-asiatica, medio-orientale. E questo ovviamente per noi sarebbe una preoccupazione molto forte. Abbiamo chiesto al Governo e al Ministro di essere determinati e seri, di non nascondere dietro alle parole l'inconcludenza che in effetti sta dietro anche l'ultima azione. Ci siamo accorti tutti, vedendo anche svanire le notizie dai giornali velocemente, che questo è un Governo che tramite il Ministro degli Esteri non riesce a fare politica seriamente. Grazie a tutti.